Vantaggi per i medici che vengono a lavorare in Calabria come per i magistrati. E' la soluzione che il governatore della Calabria, Roberto Chiuto, propone al governo per sopperire alla grave carenza di medici negli ospedali calabresi. Ad un anno dall'arrivo della prima tranche di 52 medici cubani, il presidente della regione torna sull'argomento in un'intervista a Radio 24, specificando come il problema non riguardi l'assenza di risorse. Il debito è inferiore rispetto a quello di altre regioni del centro-sud, le risorse ci sono e un medico cubano costa quanto un collega italiano. Ma reclutare i medici in Italia è difficile, soprattutto in regioni come la Calabria, in cui il sistema sanitario non è attrattivo. Perché un giovane medico specializzato con offerte in tutta Italia debba venire in ospedali che, a causa del disastro del commissariamento, presentano problemi strutturali? La soluzione, per occhiuto, sarebbe quella di garantire vantaggi sia economici che di carriera per chi decide di lavorare in Calabria. Viene già fatto con i magistrati ed è giusto premiare chi decide di lavorare in zone disagiate. Ho bisogno che il governo si impegni a mandarci i medici migliori. Molti sono calabresi e sono apprezzati ovunque. Forse resterebbero in Calabria se venissero remunerati e considerati meglio. Sui medici cubani il governatore si esprime con soddisfazione. Ai 52 iniziali se ne sono aggiunti altri 121 le scorse settimane che ci hanno consentito di lasciare aperti ospedali che altrimenti avrebbero dovuto chiudere. Sulle polemiche ho chiudocontrobatte. Ho ricevuto tantissime critiche. I medici sono stati apprezzati sia dai colleghi italiani che dai pazienti, aiutandoci a smaltire le liste d'attesa e addirittura riparando in alcuni ospedali macchinari guasti. Grazie a tutti.